Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato alla didattica a distanza, in realtà è un webinar che per chi ci segue già da un po' lo sa, fa parte di un ciclo che abbiamo messo in piedi un po' roccambolescamente il giorno di fatto in cui l'emergenza sanitaria ha riguardato più da vicino le scuole italiane e quindi ha coinvolto quella che era la didattica quotidiana. L'abbiamo voluto come servizio sociale gratuito per offrire un supporto alle scuole italiane in un momento sicuramente anomalo che mai ci saremmo aspettati di dover affrontare, credo, io sicuramente non l'avevo previsto, penso molti non si aspettassero di essere posti di fronte a un'interruzione della quotidianità e delle attività che davamo per scontate così prolungata. Di questo ciclo fanno parte diversi contenuti dedicati che possono riguardare l'argomento. Abbiamo dedicato webinar alla didattica a distanza che erano più quasi delle tavole rotonde di confronto, quindi corali e più voci, soprattutto all'inizio in cui ci si interrogava e si cercava di capire, ok, questa è la situazione, quali possono essere gli strumenti per reagire in modo abbastanza veloce e continuare a garantire ai ragazzi, se non ovviamente un servizio paragonabile a quello precedente, ma una sorta di continuità. E poi ne abbiamo fatti altri di più specifici, alcuni proprio sulle piattaforme, gli strumenti che servono per garantire la didattica a distanza, quindi che servono a creare classi virtuali, a creare meeting, a creare videoconferenze e così via. Altri con idee di lezione più specifici, ad esempio come faccio scienza a distanza, ne abbiamo tenuto uno molto bello con Tullia la settimana scorsa per le medie, uno con Rodolfo per la scuola primaria, quindi proprio attività di lezione a distanza da utilizzare anche domani. Perché vi parlo degli appuntamenti passati? Perché nel nostro sito, il link che vedete in sovraimpressione, abbiamo raccolto anche le registrazioni dei webinar passati, quindi se per caso ve ne siete persi qualcuno, trovate a questo link tutti i webinar passati, potete registrarvi e scaricarveli e quindi guardarveli anche in differita. Vi ricordo che tutti i nostri webinar appunto sono disponibili gratuitamente, previ appunto compilazione del modulo che avete compilato anche per essere qua. Altra informazione tecnica che può essere molto utile, quanti di voi ci stanno seguendo per la prima volta? Mi scuso se non l'ho detta all'inizio, il webinar si sta svolgendo in modalità webcast, significa che tutti i partecipanti sono silenziati, quindi non potete intervenire, questo per garantire normalmente ai relatori una fluidità nell'esposizione che ci siamo accorti essere essenziali, soprattutto vista l'alta partecipazione che stiamo riscontrando e di cui vi ringrazio sempre tantissimo. Questo non significa che non possiate porre domande. Nella dashboard della piattaforma che stiamo utilizzando per tenere il webinar avete uno spazio, che è la chat, in cui potete inserire le vostre domande. Noi vedremo di raccoglierle e porle alla fine al nostro relatore di oggi, che è un ospite davvero speciale, che mi sta molto a cuore, che a breve vi presenterò. Oltre a questo tutte le slide che vi mostreremo oggi, che non sono molte oggi perché sarà un incontro più dinamico e interattivo, diciamo in cui parlano di più le facce che le scritte e le immagini al computer, ma in ogni caso le slide, anche questa che sarà cliccabile con il link diretto che vi sto mostrando, vi saranno inviate a 24 ore dalla fine del webinar, quindi non vi preoccupate, insieme alla registrazione. Allo stesso modo riceverete anche l'attestato a 24 ore dalla fine del webinar, quindi non riusciamo a inviarvelo prima, è proprio un sistema automatico, non vi preoccupate, vi arriva in ogni caso. Vi ricordo che le risorse dedicate alla didattica a distanza le trovate anche nel blog Innovation for Education, dove oltre ai webinar passati di cui vi parlavo prima trovate anche i link per iscrivervi ai prossimi webinar, abbiamo un calendario molto fitto anche per questa settimana e stiamo preparando una bellissima agenda anche per la prossima, che non vedo l'ora di farvi conoscere. Oltre a questo troverete altre risorse molto utili come PDF, dispense, lezioni pronte, oltre che dei video tutorial molto molto cliccati in questo periodo. Penso ad esempio uno di più cliccati soprattutto all'inizio dell'emergenza sanitaria è stato quello sul tutorial che riguardava il modo in cui si poteva attivare la G Suite for Education per le scuole che ancora non erano provviste. Oltre a quello ne trovate altri, proprio con idee, tutorial, scusate, idee di didattica e così via, che possono essere utili. A questo punto credo di avervi dato tutte le informazioni, lascio la parola al nostro ospite specialissimo che è Daniele Barca, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 3 di Modena. Lui ci parlerà, diciamo, del problema della valutazione, che è un problema che abbiamo già affrontato per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Mentre rimaneva scoperto, diciamo... Daniele intervengo io, mi sa che abbiamo perso Lisa, quindi saltiamo la sua introduzione e ti direi insomma di iniziare con il tuo intervento se va bene. Ok. Vai pure, quando vuoi. Grazie Lisa per la presentazione, ringrazio Campus Store per questo invito, collaboriamo su tante battaglie digitali ed è un piacere poter dare qualche idea. Voglio premettere subito per tutti quanti che mi conoscono e conoscono le cose che ho fatto in questi anni, che non sono un esperto di valutazione, se non quanto in quanto insegnante e ora preside, insomma, e che gran parte delle cose che dirò sono un po' una rielaborazione della mia comunità scolastica, di quella che è la circolare 388, uscita a precisare qualcosa sulla didattica a distanza qualche giorno fa. E dall'altra parte anche, e quindi devo dire grazie ai miei insegnanti, tutti quelli di ogni ordine di scuola per queste idee, al mio staff e soprattutto grazie per la condivisione. Una prima osservazione importante che farei è proprio questa, probabilmente per dare certezze alle comunità che stiamo accompagnando in questo momento difficile, le comunità scolastiche, dobbiamo provare a trovare una strada comune all'interno della scuola, questo è molto importante, credo che sia il compito di noi dirigenti, il motivo per cui mi sento e voglio essere così attivo. Poi l'altro segreto, prima di entrare proprio nel vivo del tema, è che secondo me ognuno ha la sua strada in questa vicenda, perché così come nell'ambito dell'autonomia, sapete, ogni scuola dovrebbe avere un regolamento della valutazione, il DPR 122, vado a memoria, e quel regolamento dovrebbe rispecchiare la propria offerta formativa. Analogamente in questo momento dobbiamo trovare, secondo me, una chiave comune a tutta la scuola, diversa per ordine di scuola, perché ovvio che valutare la primaria non è la stessa cosa che valutare la secondaria e il primo grado in questo momento, ma sicuramente una linea di indirizzo, proprio per non disorientare le famiglie, perché in questo momento l'attenzione sulla scuola è molto forte, le richieste sono significative, quindi di fatto il tema della valutazione che sembra essere, come dire, rispetto alla didattica, ai libri, al digitale, un tema sullo sfondo, in realtà in questo momento in cui ancora abbiamo, diciamo, molte incognite, no? Sui tempi che avremo ad andare da qui a fine anno, può diventare molto cruciale, anche come fiducia nei confronti della scuola e dei suoi strumenti, ma anche come prospettiva educativa. E poi la mia chiacchierata di oggi vorrebbe anche raccontare un'altra cosa, cioè l'idea che forse, come sempre, dalle difficoltà possono nascere delle opportunità. Questo diciamo che lo svelo man mano che vado avanti, però sicuramente il tema della valutazione, che è un tema molto importante per la scuola, in questa occasione potrebbe dare degli spunti per quando torneremo, no? Perché ci crediamo tutti, lo vogliamo tutti, degli spunti diversi per quando torneremo. E quindi in qualche modo, così come adesso le competenze che tutti voi state acquisendo, moltiplicando, potenziando, sia insegnanti che dirigenti, a casa propria, con le proprie forze, con il proprio impegno, no? Io ai miei, ai genitori dei miei, dei miei studenti ho evidenziato che qui, dovendo fare una scuola diversa, perché è diversa, è evidente che quello che prima si faceva con certi automatismi, anche dati dall'esperienza, eccetera, ora non valgono più, quindi ci vuole una rielaborazione nella proposta dei contenuti che porta via sicuramente molto più tempo di quello che portava via la vecchia preparazione della lezione. Quindi cambia l'orizzonte, questo, come dire, questa opportunità di riflettere sulla valutazione possono essere utili. E quindi non sono un maestro per nessuno, voglio subito dirlo, ognuno deve trovare la sua strada, però sicuramente, ecco, racconterò un po' quello che abbiamo provato a fare come scuola, anche confrontandoci e guardandoci intorno. La prima cosa importante che mi sento di dire è che diciamo che ci siamo andati del tempo, così come ci siamo andati del tempo due settimane fa, tre settimane fa, per organizzare in maniera coerente la settimana e gli strumenti di didattica a distanza, sia per l'infanzia che per gli elementari che per le medie, così il mio suggerimento ai miei insegnanti. Noi ci vediamo ogni venerdì in un Meet, noi usiamo la piattaforma di Google, ogni venerdì ci vediamo, quindi facciamo il punto della situazione, è un momento molto interessante, io scherzando dico che quasi quasi li vedo tutti insieme più adesso che prima. In quel momento quello che ci siamo detti è stato questo, calma e gesso, cerchiamo di capire che cosa si può fare nel modo migliore, in una condizione veramente particolare, quindi ci siamo andati del tempo, ovvio non è che possiamo stare qua a riflettere da adesso all'infinito, però sicuramente dirci, fissiamo alcuni punti importanti e proviamo a rifletterci in questa settimana, è un modo per condividere gli strumenti, per condividere gli strumenti, questo è molto importante. E quindi io partirei con qualche piccola considerazione proprio sulla nota, sulla circolare 388, credo che avere delle indicazioni in qualche maniera è sempre utile, ovvio che magari molti le volevano più stringenti, altri le volevano più lasche, è sempre difficile scrivere questi documenti, ma vanno letti secondo me perché danno delle indicazioni importanti, per esempio la prima, secondo me centrale, è quella della valutazione costante, allora qui ribadisco, io sto parlando di scuola del primo ciclo, quindi scuola dell'obbligo, dove la valutazione, come dice anche il 62, il decreto 62, è fortemente, è volutamente formativa, oltre che sommativa a fine anno, quindi che deve accompagnare un processo di crescita, l'idea che la valutazione sia costante, abbiamo provato con la mia comunità a tradurlo in questo spunto, di dare sempre un feedback, quindi qualsiasi attività venga proposta allo studente, provare a dare un feedback, ora questa che può sembrare una cosa scontata, in realtà a distanza non è così semplice, se sono elementare e voglio dare un feedback, faccio il giro tra i banchi, guardo la performance e do una valutazione, un buono, un bravo, un rafforzamento, eccetera, eccetera, quindi questa prima indicazione secondo me è molto interessante, comunque la si veda dare un feedback, e questo è già importante, perché permette anche di accumulare una serie di dati, il tema è come dare questo feedback, noi sappiamo, ripeto io non sono proprio un grande esperto di valutazione in senso stretto, però noi sappiamo che la valutazione spesso è legata, è legata sempre alla misurazione, che cosa vuol dire? Che allora dobbiamo capire che cosa dobbiamo misurare, allora proviamo a mettere in fila le cose, qui stiamo parlando di didattica a distanza, di learning, nei corsi learning, perché anche questo è un dato da non sottovalutare, nei corsi learning sostanzialmente abbiamo tre tipi di prove, io ho lavorato per anni con l'università di Bologna, anche precedentemente ho fatto varie esperienze con indire di formazione a distanza, che tipo di prove si danno? Innanzitutto sono prove in genere che sono molto legate all'autonomia dello studente e questo non è un dato da da sminuire, perché di fatto tenete presente che per quanto si possa fare interazione online comunque non si può fare le tipiche prove dirette per capirci il compito scritto, l'interrogazione orale, non hanno davvero senso, a parte potremmo dire con una battuta, io spesso lo dico anche sui social, ricordiamoci sempre ci sono studenti che coprono con lo scotch la telecamera dicendo che hanno bassa la connessione e quindi di fatto mentre l'insegnante l'interroga apre tutti i file di questo mondo, tutti i pezzi di carta, c'era un'attrice ho visto in tv che mentre l'insegnante di geografia interrogava era lì nell'angolino per terra, facevano questa fiction, e suggeriva al figliuolo, ecco quindi da questo punto di vista è insomma sarebbe una stortura in qualche maniera, quindi l'e-learning sostanzialmente che cosa valuta, qual è l'oggetto della valutazione? Beh in genere se ci facciamo caso ho test automatizzati però per far questi ci vuole tempo, bisogna essere molto bravi, bisogna farli nel modo giusto in maniera da un punto di vista docimologico corretto, se sono proposti in una classe intera vanno randomizzati per cui si girano i quesiti, insomma fare un test, cosa che noi pensiamo nella scuola normale, diamo come dire sempre molto poco rilievo al test anche se i libri ne sono pieni, ma fare un test di verifica oggettiva fatto per bene non è facile, io ho studiato all'università tanti anni fa con Benedetto Vertecchi, lavoravamo all'epoca proprio su queste dimensioni, anzi addirittura per far vedere come si facevano parte dell'esame era realizzato con un test di questa natura e vi assicuro che era tosto, non è assolutamente semplice. Quindi questa è una prima possibilità, l'altra possibilità è quella dei gruppi di lavoro, a affidare un gruppo di lavoro, su questo a scuola siamo bravi, cooperative learning eccetera. Ovviamente in questo momento il gruppo di lavoro anche a distanza con ragazzi piccoli non è facile perché già normalmente hanno difficoltà a incontrarsi, a vedersi nel tempo extrascuola, figurarsi in questo momento. Un'altra dimensione interessante dell'e-learning tradizionale, è invece quella del compito complesso, del compito di realtà, cioè dove io tiro dentro le competenze dello studente, ma lo faccio, come dire, non soltanto su un semplice argomento, quindi tipo relazione scritta, tipo tema eccetera, ma coinvolgo numerose competenze, cioè la faccio difficile, insomma, faccio una prova difficile, complessa. Anche questo non è facile, giustamente su internet qualcuno annotava a questa mia osservazione, dice però bisogna essere abituati a pasta roba, cioè mica mica è semplice, ed è vero. Attenzione che in questo io sto introducendo un po' il finale della mia chiacchierata, poi dico Lisa se poi hai qualche curiosità puoi benissimo interrompermi, una delle cose che ci rimarrà probabilmente sarà proprio la costruzione di queste prove complesse, perché se io chiedo al ragazzo di fare una relazione... Avrei una curiosità, se mi senti? Sì, sì, ti sento. Stavo cercando di non interromperti, perché temo molto sulle linee purtroppo. Allora, in particolare sui compiti, che immagino che tu adesso vada a spiegare meglio il compito per competenze, il compito di regole, che è chiamato compito di realtà. Per i più piccoli soprattutto, cioè penso a un bambino di prima, ci sono diverse mamme che ho sentito in questo periodo e mi dicono, ok, tutti che si preoccupano, che è fine anno e si preoccupano della maturità o di chi è in terza media, ma nessuno che si preoccupa di bambini di prima elementare, magari che hanno fatto in effetti quattro mesi di scuola. Quindi come dobbiamo comportarci con loro? Su cosa dobbiamo soffermarci? Perché sono ancora dei piccolini alla fine, quindi è vero, è una questione non banale. Allora, su questo si incazzano due discorsi. Il primo, avere l'idea che dobbiamo recuperare qualcosa e questo sinceramente, essendo questa tragedia del coronavirus un qualcosa di nazionale, di grande, che va oltre le singole autonomie scolastiche, io tranquillizzerei perché se il tema è abbiamo fatto solo mezzo anno di scuola, ragazzi, questo riguarda tutti quanti. Poi ovvio, come dire, che diciamo un prezzo importante lo pagano i più piccoli che hanno potuto avere solo mezzo anno di scuola. Io ricordo, io non ho fatto la quarta elementare, Elisa, questa cosa ogni tanto la racconto perché... Non lo sapevo. Sono cresciuto a Bari e nel 74 c'era il colera, quindi smisero di mandarci a scuola e non ho, lo dico scherzando, non ho né la foto di classe né la pagella della quarta elementare. Fummo promossi, immagino, tutte e tutti i open edges. Questo per dire che su questo aspetto recupereremo, non recupereremo, i bimbi soprattutto quelli piccoli sono spugne ed elastici, quindi veramente darei un messaggio di tranquillità. Poi il tema è che cosa fare con loro. I miei insegnanti, abbiamo pubblicato i materiali sul sito c3modena.edu.it hanno lavorato per classi parallele e hanno proposto delle attività comuni. Ovvio che non puoi andare a fare un lavoro personalizzato come deve essere, un lavoro continuativo come deve essere, con bimbi così piccoli logicamente, ma molte sono attività di relazione per tenersi in contatto, per provare a spostare quel piccolo passo in avanti, come dire, per acquisire qualche altra piccola conoscenza, abituare alla lettura, far ascoltare delle letture. Ecco, su questo credo anche in rete ci sia una mole di materiali. Però rispetto a questo tema, ripeto, della prima elementare, ecco, delle classi più basse, mi preoccuperei soprattutto che non venga interrotto il legame affettivo, che in questo momento è quello più forte. Poi ovvio sta la fantasia dell'insegnante a proporre attività che possano tenerli dentro, agganciarli. Quale è il ruolo, secondo te, scusami, no no, finisci, poi ti metto la mia scelta. No, rispetto a questo che stai dicendo, immagino che tu dici che è il legame affettivo ovviamente che si sviluppa nei confronti di quella che io chiamo la maestra o il maestro, ma qual è il ruolo sia nel mantenimento di questo rapporto che in questo tipo di didattica, didattica per come l'ha stato concependo dei genitori o di nonni o di chi insomma sta a casa con questi bambini. Questo mi sta introducendo una serie di cose che avrei detto, quindi mi stai davvero aiutando, perché il tema vero di tutta questa vicenda è che in genere tu prendi una scuola dove c'è il tempo pieno, come la mia che c'è solo tempo pieno. In una scuola a tempo pieno la scuola è l'80% in mano alla scuola e un 20% in mano alle famiglie, perché poi tutto sommato in un tempo pieno non si danno tanti compiti, tutto sommato molto del lavoro, soprattutto coi piccoli, viene fatto in classe perché noi lo vediamo sulle prime elementari, le seconde elementari c'è un lavoro pazzesco agli insegnanti di stare insieme, di potenziare i singoli, non è semplice, non è banale. Cosa sta accadendo? Che si capovolge il rapporto, cioè quello che sta accadendo adesso è che l'insegnante per motivi pratici e operativi non può fare più del 20% di questa vita scolastica, l'80% è affidato in mano alle famiglie e questo è un po' un problema da un punto di vista dell'equità sociale sicuramente, cioè ovvio che chi ha tempo non ha preoccupazioni, perché ragazzi qui c'è gente che in questi giorni, proprio oggi, viene lasciata a casa, quindi ci sono dei drammi anche familiari che non sono banali. Ovvio che chi ha delle possibilità può accompagnare meglio gli studenti, però diciamo che questa è un po' la criticità di questo momento, soprattutto sui bimbi più piccoli. Allora, quello che ho visto i miei insegnanti stanno provando a fare, soprattutto nelle classi più basse, è questo dare delle opportunità, non dico in cui i bimbi siano autonomi, perché non è facile, ma in cui l'accompagnamento dei genitori sia il più possibile facilitato. Noi addirittura, proprio stamattina stiamo facendo un'altra spedizione, stiamo anche coinvolgendo, provando a coinvolgere i bimbi che non siamo riusciti a raggiungere o che abbiamo difficoltà a raggiungere anche con la posta ordinaria. Ecco, già ricevere dalla scuola, l'abbiamo fatto in maniera massiva per l'infanzia, con alcune classi per elementari, soprattutto le prime e le seconde, arrivare, che ti arrivi a casa una busta con il materiale che ha fatto il tuo insegnante, un saluto, diventa un modo per agevolare il genitore e al tempo stesso per, in qualche maniera, tenere dentro un percorso un bimbo. Poi c'è un'eccezionalità di vicenda che logicamente non si può non considerare. Non so se ho risposto alla tua domanda, però il tema è essenzialmente questo, facilitare, grazie, facilitare un po' di più le persone che sono a casa, però il fatto che l'80% di questa gestione sia in casa è oggi un dato di fatto, non è un volersi togliere una responsabilità, è una cosa che sta accadendo. La scuola deve, con le sue forze, con i suoi mezzi, con la comunità, provare a tenere, come dire, a facilitare il più possibile questo 80% che accade a casa. È il motivo per cui come scuola abbiamo pensato di fare ogni lunedì un webinar in cui facciamo delle letture, proponiamo una sorta di art attack, insomma, proponiamo delle attività per stare sul divano e fare qualcosa insieme a tutta la scuola, come se fossimo radunati tutti insieme. Ma quindi è rivolto a tutti i livelli? Rivolto al, l'abbiamo chiamata TV dei piccini e TV dei ragazzi, la TV dei piccini è la prima parte, poi però si sfocia con l'art attack nella seconda parte che è la TV dei ragazzi, dove c'è attività che sono un po' più legate anche all'età, in maniera da impegnare tutte le facce d'età. È un po' un esperimento, però è anche dire, dare un appuntamento, dare un appuntamento. Ma quindi, scusa, la chiami TV dei ragazzi o TV dei piccini perché fanno qualcosa loro di attivo? No, questa è un'altra idea che stiamo coltivando, però è difficile, nel senso che non è facile. Però intanto proporre a tutta la comunità scolastica, ma non solo perché il link, l'iscrizione è aperta ed è gratuita, proporre delle attività per stare insieme può essere interessante. La settimana scorsa, per esempio, oltre a degli attori che ci raccontano delle storie in maniera eccezionale, oltre a un regista che racconta ai ragazzi che cos'è il cinema e qual è la storia del cinema, abbiamo iniziato a costruire degli oggetti anche, da far volare dal balcone, quindi anche cose che abbiamo a che fare proprio con la manualità e col vivere questo tempo di attesa. Quest'idea della comunità ha regolato proprio i nostri rapporti anche sul tema della valutazione. Dicevamo, valutazione costante, quindi dare dei feedback costanti, indicando anche però il fatto che proviamo ad andare a valorizzare quello che i ragazzi sanno fare. In questo momento è veramente difficile, quindi dicevamo, compiti complessi che in coerenza con gli learning potrebbero essere lo strumento per poi applicare una valutazione che ha un senso, che sia coerente e che vada oltre il copia e incolla, la memorizzazione, che in qualche maniera sveli le competenze. attenzione che questo tema sarà uno dei temi che ci rimarrà, come dicevo prima, cioè sicuramente se imparassimo in questo periodo, con calma, anche con una progettazione, una programmazione, a fare prove complesse, potrebbe essere davvero un regalo grande che ci facciamo come scuola, perché sono quelle robe di cui sempre si parla ma poco si fa. qualche giorno fa sentivo un regista in tv che diceva che si era rimesso a leggere, si era rimesso a leggere i grandi classici che a scuola, insomma, aveva faticato a leggere, Seneca, Tacito, questi qua, insomma, e osservava come all'epoca studiava per la scuola, oggi studiava per la vita. Questa distanza ci obbliga a studiare per la vita in questo momento. Faccio un esempio, uno degli art attack che vogliamo proporre nelle prossime settimane è la serra idroponica. Costruisciti una serra idroponica. La serra idroponica con sé si porta una serie di compiti in realtà, no? Osservo il seme, lo faccio crescere, uso la manualità, posso prendere delle misure matematiche, questo solo per dire un esempio di qualcosa che ha a che fare con la vita. Ecco, in questo momento dovremmo provare a riuscire a dare compiti per la vita. Molti insegnanti, per esempio in materie umanistiche, stanno suggerendo ai propri studenti di tenere un diario di bordo di questi giorni. E quello è un esempio di scrittura, è un esempio di interpretazione. Anche qui la richiesta del feedback è molto importante. Feedback che si lega a un altro tema della didattica a distanza. Quindi voglio precisare che il tema forte è la programmazione e il collegamento tra quello che faccio in classe e quello che vado a valutare, in classe virtuale chiaramente, è quello che vado a valutare. La coerenza fra queste due cose ci darà ragione. Se io propongo un'attività che non ha senso a distanza, è ovvio che mi risulta difficile poi valutarla. Una certa coerenza diventa importante. Quindi, oltre a questa idea del feedback, anche l'idea dell'appuntamento. Riuscire a dare delle scansioni temporali, a riorganizzare il tempo, no? Perché dopo la prima settimana, qui in Emilia Romagna, eravamo chiusi. Nella seconda, qual è stata la necessità che tutti abbiamo sentito? Di riorganizzarci a giornata, anche se eravamo a casa. Quindi, da questo punto di vista, l'appuntamento diventa una variabile della valutazione. Ecco, la nota dice proprio costante. Ma dice anche, deve avere un ruolo di valorizzazione. Allora, un'altra indicazione ci siamo dati come collegio. Non andiamo a cercare ciò che lo studente non può sapere. Proviamo a valorizzare quello che sa. Che del resto, un po', nella scuola del primo ciclo, se noi pensiamo alla certificazione delle competenze, che è anche il grado minimo, è comunque una valorizzazione di ciò che lo studente ha acquisito, è proprio nel DNA, è proprio nella natura. E poi qui parla anche, dice, la valutazione ha sempre un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi. Tante volte non pensiamo che anche questa può essere un'occasione eccezionale per chi è stato indietro di recuperare e portarsi, farlo portare il più vicino agli altri. Già se chi in genere in classe ha difficoltà o indietro rispetto agli altri, nel senso che ha difficoltà nel suo percorso, se riuscissimo a portarlo su cose che abbiamo già fatto in classe, quindi che sono state spiegate, approfondite, eccetera, se riusciamo a portarlo a una competenza superiore, è già questo per lui è un successo, è un 10, per capirci, per dirlo proprio con il voto. E visto che ho parlato di voto... Posso fare una domanda a sapere a proposito? Scusa. Sento che ho un leggero ritardo, quindi scusa se ti interrompo in Italia. No, no, va bene. Stavi parlando di chi ha difficoltà. Ti faccio la domanda opposta invece, visto che stiamo quindi in una linea, cioè chi ha difficoltà, quindi un po' più indietro, chi invece tendeva a correre di più? In quel caso, state prevedendo dei percorsi, puoi dare dei consigli, cioè immagino il bambino, il classico che finisce un quarto d'ora prima degli altri quando ci sono le consegne in classe, eccetera. Questa didattica a distanza permette forse di modulare in modo più personalizzato anche per quei bambini, di cui spesso non si parla, però c'è anche quella parte che merita spesso un'attenzione maggiore. In qualche modo permette di più, perché di fatto siccome il tempo del suo lavoro è legato all'autonomia e quindi anche la modalità di farlo è legato alla sua autonomia, si può riuscire a valorizzare, per questo però gli insegnanti sono bravi perché conoscono i loro ragazzi, si può riuscire a valorizzare quella competenza, che non significa che per lui vai avanti nel programma detta all'antica, non esiste il programma, eccetera, eccetera. No, 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 dico, non esiste il programma, non esiste il programma, come un mantra proprio. No, si tratta di dare compiti opportuni che possa aiutare, perché no, un coordinamento rispetto alla classe, qualcuno in rete propone, chi è più capace riesce a fare un mini sito dove mette insieme i materiali da condividere, oppure un'altra cosa che stiamo sperimentando al di là dei momenti da, parlo della secondaria e primo grado, dei momenti canonici, no, del nostro planning settimanale di incontri, fare degli incontri, come dire, volontari, dove si possano sperimentare meglio certe cose e coinvolgere anche chi magari ha voglia di approfondire di più, capire di più. Se interpretiamo questa cosa in questa maniera stiamo dando un potenziamento delle competenze. Se interpretiamo che siccome Daniele è bravo, deve fare di più e quindi va avanti più degli altri, non stiamo rispettando il nostro compito di scuola pubblica e statale e scuola dell'obbligo, in cui dobbiamo tirare dentro tutti quanti. Ovvio, ribadisco, l'autonomia può facilitare. Ovvio che non è facile, perché non siamo abituati a farlo a distanza. Quindi anche qui il tempo, la programmazione in queste settimane, dopo aver capito come muoverci, ci può aiutare. Anche perché, ripeto, poi dobbiamo provare a dare una valutazione in qualche maniera. La circolare ci parla di valutazione in etinere degli apprendimenti. Noi come comunità l'abbiamo un po' interpretato come feedback continuo e al tempo stesso una valutazione di tipo formativo, cioè cercare di accumulare elementi per poter in qualche maniera poi capire quando ci sarà detto, quando capiremo come si evolverà all'anno, capire alla fine anche che tipo di valutazione, se ci verrà chiesto, sommativa, dare, che tipo di valutazione esprimere. Sicuramente non è un compito facile, devo dire che come scuola eravamo casualmente entrati già in questo tema prima perché abbiamo ancora in piedi, ci vediamo ogni martedì, una sperimentazione che abbiamo chiamato Oltre le discipline. Cioè abbiamo iniziato a riflettere sulle elementari, in prima battuta, ma poi lo faremo anche sulle medie, sull'autovalutazione dello studente, sulla valutazione narrativa, perché avendosi insieme al voto le rubric di valutazione, quella del comportamento e del giudizio globale, non eravamo molto soddisfatti, volevamo provare a fare qualcosa di diverso. Al tempo stesso, è il motivo per cui si chiama Oltre le discipline la valutazione, la sperimentazione, agganciare un nuovo modo di valutare a un nuovo modo di lavorare, che poi per elementari è antico, cioè un modo in cui le discipline lavorano insieme. Per le medie è più difficile, naturalmente, perché c'è la disciplinizzazione che è molto forte, ma l'idea era un po' questa. Che cosa ci azzecca questo con il discorso sulla valutazione? Secondo me può essere una delle risorse che ci rimarrà dopo, cioè se riusciamo a lavorare come consigli di classe, come anche la circolare in vita, a fare, dice la valutazione è compito del singolo insegnante, ma provate a coordinarvi come consiglio di classe. Ecco perché ci vuole il tempo anche per mettere in piedi questa cosa, non è che da oggi è scritto e dobbiamo valutare, valutiamo, va costruito un percorso. Come coordinamento, un compito complesso, per esempio da me le educazioni stanno iniziando a lavorare già su queste prospettive, un compito complesso può essere proprio costruito a più mali dagli insegnanti ed avere un ritorno, un ritorno, come dire, su più, su più discipline. Per elementari dovrebbe essere un po' più spontaneo e so che già i team stanno lavorando in questa maniera, attenti che sotto quello che io sto dicendo, non sto solo ringraziando chiaramente il mio corpo docente, ma sto dicendo una roba più importante, che la riuscita non solo della progettazione di questa didattica a distanza, ma anche della valutazione, sta nel fatto che non tanto che si assuma una linea comune, ma che questo sia un 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 sentire. Ricordo che già oggi è previsto per ogni scuola un regolamento della valutazione, il DPR 122 ci obbligava a farlo. Noi ne abbiamo uno, ma in questo momento non dico che è inutilizzabile, ma quasi, perché di fatto è pensato su una dinamica di presenza. E quindi può essere anche un modo interessante per aprire una nuova riflessione per il futuro per la valutazione. Sul tema legato a questo può esserci il tema del voti, non voti, quale strumento utilizzo per dare un feedback. Secondo me ogni comunità deve trovare la sua strada migliore. Chi usa il registro in maniera intensiva usa il registro in maniera intensiva. Chi usa altri strumenti dai meet di gruppo alle varie piattaforme che esistono, usi, strumenti che sono più consoni. L'importante, ripeto, la certezza, come direbbe il Beccaria, la certezza della valutazione e anche sul tema del voto. Io parliamo di scuola dell'obbligo e in questo momento specifico non mi impiccherei, nel senso che secondo me anche qui è la comunità che deve dare una risposta compatta. ovvio che secondo me non può accadere che l'insegnante Barca dà i voti e l'insegnante Daniele non dà i voti. Non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo dare voti, qui si parla di valutazione in itinere, gli strumenti di valutazione possono essere tanti in questo momento, la norma, il 62, dice che a fine anno noi comunque dovremo dare delle valutazioni, aspettiamo di capire cos'è, però io coglierei, ripeto, questo periodo proprio con opportunità per riflettere. Chiudo questo pezzo del mio intervento per entrare poi magari anche in qualcosa di più di proposta per dire che allora vedete che così come io la chiamo didattica, non solo io, tante persone stanno chiamando la didattica di vicinanza, non a distanza, perché di fatto ci tiene più uniti, io dicevo, io e i miei insegnanti non li ho mai visti così tutti insieme con questa frequenza, ma molti, 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 molti docenti anche hanno bisogno, hanno voglia di vedere e sentire i propri studenti. Con qualche, volevo chiudere un po' con qualche suggerimento anche operativo, molto, molto semplice. Il primo è tenere presente che dobbiamo raggiungere tutti, io questo lo dico sempre in ogni salsa, scherzando, ma non tanto parlo di talvolta come Peter Kahn, fanno i bimbi sperduti, cioè dobbiamo veramente arrivare a tutti, non ha senso che io faccio una programmazione forte da un punto di vista della didattica a distanza e poi tre non partecipano o uno non partecipa per il tipo di scuola che siamo, quindi questo è un principio ineludibile e infatti come scuola stiamo lavorando molto su queste due dimensioni, su questa dimensione scusate, del tenere tutti per tenere tutti agganciati. Nella circolare che io ho scritto a commento di questa del del Ministero una cosa importante che da qui sono partito è la rimodulazione della programmazione, cioè quello che ho detto con molta saggezza e moderazione non è che non facciamoci prendere dall'ansia, adesso forse saremo chiusi di più, non lo sappiamo, per ora la data è il 3 aprile, poi vedremo dopo Pasqua, eccetera, facciamo sì che il tempo diventi una risorsa, allora se è una risorsa è anche per pensare a come rimodulare la nostra progettazione, da questa rimodulazione arriveranno le attività che uno propone ai propri studenti con i canali che la scuola ha attivato, da queste attività deriveranno poi le varie valutazioni, allora in un percorso del genere essendo proprio un percorso e avendo noi davanti del tempo il diario di bordo può essere una soluzione. Noi stiamo provando e il consiglio che ho dato un po' agli insegnanti di registrare da qualche parte come dire singolarmente ogni studente che tipo di progresso fa, se è presente, se non è presente, in maniera da avere una traccia di quello che sta accadendo, molti insegnanti lo stanno già facendo, lo facevano autonomamente, ma il diario di bordo è molto importante. Attenzione, non confondiamo il diario di bordo con il feedback con la restituzione, il diario di bordo è uno strumento dell'insegnante. Secondo me, da un punto di vista didattico, se io do dei feedback precisi a delle attività precise, qui non entro nel tema della programmazione, della rimodulazione della programmazione che è centrale, ma se do dei feedback precisi, ho temperato al mio compito di trasparenza nei confronti dello studente, ma al tempo stesso inizio a raccogliere degli indizi delle prove, perché qui in campo, proprio perché l'e-learning richiede autonomia, subentrano altri indicatori, di cui noi a scuola teniamo conto, sono spesso nella scheda del comportamento, indicatori che poi sono competenze come il rapporto con la vita reale, il rapporto con il sé, le competenze in situazione, la continuità nell'impegno, l'interesse, il rispetto delle consegne, il rispetto degli altri, apprendiamo che in queste chat ogni tanto qualche ragazzo fa delle robe sconsiderate e io ho detto beh, sono contento perché essendo a casa finalmente le famiglie possono vedere che cosa accade in una classe reale, non è la stessa cosa ovviamente, però si può vedere davvero chi si comporta e in che maniera, con uno slogan ho detto la didattica a distanza non è la didattica in presenza ma l'educazione resta sempre la stessa, quindi educazione e maleducazione, quindi vedete questi indicatori, la responsabilità diventano davvero un modo anche diverso di tener conto delle competenze dello studente. Su questi indicatori l'altra cosa che stiamo sperimentando è chiedere a Lisa non so se riesce a far vedere ma è una bozza è preciso è la prima settimana non sappiamo ancora come funziona e quindi però visto che è stato elaborato dai miei insegnanti è anche un modo per far vedere uno strumento vero molto semplice ognuno come dire ognuno lo interpreti come vuole non è non è la genialata del momento però è davvero qualcosa molto semplice e elementare è il tema dell'autovalutazione così come gli affidiamo io se vuoi è che non riesco a condividerti lo schermo aspetta un secondo che vediamo se Stefano può aiutarci io continuo a dire due cose intanto così va bene perfetto grazie ok è il tema dell'autovalutazione cioè così come noi stiamo chiedendo autonomia nell'elaborazione del lavoro appuntamento serve a quello dare dire oggi facciamo italiano quindi ti do questa attività che tu mi consegni possibilmente puntualmente a una data X ecco in questo processo gli stiamo dando un'autonomia parliamo soprattutto di secondari primo grado ma anche i grandi le quarte elementari e quinte elementari si avvicinano a questo processo allora rispetto a questo ti do anche uno strumento di autovalutazione semplice dove capisci in questo momento dove sei e quindi sostanzialmente gli strumenti suggeriti eccolo qua lo vedi lo schermo? ok sì sì lo vedo perfetto è un modulo di google naturalmente molto semplice lo facciamo solo sulle sulle medie in questo momento ribadisco è sperimentale queste che vedete elencate sono le le discipline sono sostanzialmente due item eccole qua sono le discipline abbiamo organizzato che ogni giorno si fa una materia lunedì italiano martedì matematica la didattica dell'appuntamento mercoledì le lingue giovedì e venerdì le educazioni la mattina per tutti tutte le mattine il risveglio muscolare che è un'attività molto molto apprezzata vede anche una bella partecipazione più della metà degli studenti si collegano di mattina presto con i prof come fate il risveglio muscolare a distanza nel loro salotto che fanno degli esercizi tra yoga respiro può partecipare anche se a studenti del dell'istazio di mattarello no no dell'attività scolastica no 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 ok diciamo però ho visto in rete c'è un vasto di personaggi più o meno famosi c'è un vasto repertorio di queste robe quindi se vuoi puoi trovare bene qualcuno che ti allena anche Michelle Unziker che fa lezioni di yoga ti ringrazio ero seriamente impressionata dal fatto davvero fate yoga con i bambini anche a distanza con i bambini anche piccoli no no questo lo facciamo con le medie il risveglio muscolare è solo con le medie no no queste sono proprio ecco ribadisco il abbiamo suggerito due strumenti il diario di bordo è stato suggerito un po' a tutti gli insegnanti dicendo provate a riflettere su quale può essere lo strumento migliore alle medie in modo particolare il diario di bordo si accompagna con questa scheda di autovalutazione insomma che gli studenti devono completare ma guardate non c'è nulla da imitare perché se giri se giri la slide sostanzialmente ecco qua ci sono due domande no in che misura sono riuscito a seguire le attività di oggi quanto mi sono sentito interessato coinvolto guardate che è importante anche per noi perché poi abbiamo un vero un vero feedback del lavoro fatto dallo studente la batteria carica o scarica indica i quattro livelli una scala di Likert quindi di fatto c'è stato un ragionamento dietro legato un po' anche al lavoro che dicevo prima stiamo facendo sulla valutazione questo è importante perché secondo me tener insieme la comunità dei docenti significa anche provare a riflettere su argomenti che ci possano servire dopo un altro aspetto che abbiamo sottolineato insomma io tutti sanno che sono un po' fissato col curriculum verticale col fatto che dobbiamo lavorare dai 3-14 anni che il bingo è lo stesso non cambia allora una delle paure che gira è quella degli studenti delle medie che poi andranno nei superiori oddio li distruggeranno e qui calma e gesto cioè ragazzi siamo tutti fermi non è che qualcuno è riuscito a trovare un modo diverso di fare lezione eccetera stiamo andando avanti con grande saggezza le scuole stanno dando il massimo quindi non stiamo a pensare che mi mancheranno degli argomenti il programma il recupero è proprio il momento di non pensare a sta roba qua bisogna rimodulare i percorsi ovviamente fare dei piccoli passi in avanti ma spiegare che ne so il volume della sfera o le divisioni a distanza non è facile ragazzi diciamocelo non è facile perché tu in classe hai la prossemica hai lo sguardo annusi chi in quel momento dorme o si distrae e poi puoi avere risorse chi ce l'ha per mettere accanto a Daniele che ha dei grossi problemi uno che gli faccia vedere come si fa insomma hai una serie di potenzialità che a distanza non hai quindi questo dobbiamo ricordarci però diciamo facciamo dei piccoli passi in avanti rispetto a questi piccoli passi in avanti avere la certezza della valutazione diventa diventa un pregio nel verticale quindi però ricordiamo anche una cosa che dove c'è forte corrispondenza tra l'uscita degli elementari e l'ingresso nelle medie di studenti cioè comprensivi naturali dove gli studenti di quinta elementare la stragrande maggioranza andranno nello stesso comprensivo come scuola media beh questa è un'occasione di dialogo importante perché di fatto si potrà io spero quando quando torniamo si potrà anche riflettere per esempio sulla su una più forte progettazione comune che adesso si abbiamo sulla carta però dove non c'è l'esigenza poi alla fine non si sviluppa no? così è l'essere umano nella legge dell'evoluzione e invece qui con questa esigenza secondo me bisogna ciò che sono un sognatore però bisogna raccogliere come opportunità di dialogo può essere un modo per incontrarsi se già non si fa con i colleghi dei due ordini e capire quello che diciamo non è stato fatto come può essere poi fatto in avanti come costruire una progettazione che possa tener conto di quello quindi anche qui il comprensivo diventa diventa una una risorsa fortissima io in generale su consigli eccetera avrei finito chiuderei ribadendo io vorrei delle domande però poi arrivo ribadendo il concetto di valorizzare quel che sa lo studente invece di quel che non sa perché questo diventa in questo momento difficile scusate diventa in questo momento agevolante perché io riesco a costruire sulle sue effettive competenze un percorso anche nuovo non so se lisa sono stato come dire abbastanza scientifico sicuramente no sono stato molto esperienziale perché è quello che un po' stiamo provando provando a fare ripeto con una grande concertazione e dialogando insomma ma guarda ti ringrazio perché in realtà è quello che finora ci è stato richiesto di più vedo dai feedback che ci sono arrivati noi chiediamo sempre insomma dei suggerimenti alla fine dei webinari quello che proprio viene richiesto vogliono degli esempi concreti cioè cosa si sta facendo mi sembra generale insomma la consapevolezza che non c'è nessuno che ha una ricetta pronta o che ha la soluzione a tutti anche perché le scuole sono diverse le situazioni sono diverse eccetera eccetera però contaminandosi a vicenda secondo me vengono fuori delle belle cose forse mai come in questo momento ci si è reso conto che uniti che siamo uniti sia a livello di nazione che a livello di scuola io ho visto una grandissima partecipazione sinceramente uno sgomento magari in certi casi ma tantissimo interesse per dire ok siamo di fronte a questo ma vogliamo capire come affrontare questo problema è veramente una cosa che mi ha emozionato e ringrazio tantissimo i docenti per questo motivo per questo motivo cioè collegandomi a questo però poi ho altre cose da chiederti in realtà vedo una piccolissima parte che mi fa anche molto arrabbiare perché poi sai che sono una fumantina non esattamente una persona fredda e razionale nei dibattiti online eccetera ma moltissimi e quindi ti giro la domanda perché il pretesto che viene spesso usato è proprio quello dei bambini più piccoli della scuola primaria ovvero tantissimi che scrivono no non capite niente è inutile parlare di didattica a distanza nella scuola primaria è fondamentale la presenza fisica il contatto eccetera che poi peraltro sono cose che non è che vengono escluse nel momento in cui si parla di didattica a distanza è che non ci si può trovare nella stessa stanza eccetera quindi dicono capite niente questa didattica non ha nessunissimo senso non ha senso neanche provarci perché tanto non ha senso ecco quindi questo atteggiamento devo dire ribadisco veramente in una piccola parte però mi nervosisce molto perché mi sa di quell'atteggiamento del ok siccome secondo me non è non riusciamo a raggiungere la perfezione allora non proviamoci nemmeno ecco come si può superare questa reticenza te lo chiedo da dirigente se tu ti ritrovassi di fronte a docenti insomma che ti oppongono questo tipo di riflessione come reagiresti cioè cosa si può dire allora con i miei potenti mezzi digitali ho voluto anche lasciare una traccia a questa domanda io ne ho un'altra e quindi che si fa che si fa cioè il tema è questo la situazione è questa qui ma poi guardiamo la vita intorno in questi giorni no abbiamo mai fatto la fila al supermercato no io non vi ricordo almeno non ho fatto la guerra quindi come dire abbiamo mai visto razionato il pane o che altro in alcuni luoghi dove non ce n'è tanto non ti danno più più di tanto siamo mai stati in casa tutti questi giorni senza neanche poter uscire abbiamo mai sentito per le strade una una camionetta che passa e dice statevene a casa no e quindi mi sembra veramente come dire un'osservazione che non tiene conto di una roba che comunque fa parte di quello che è accaduto fino all'ultimo giorno in classe cioè la relazione il tema non è tanto fare la didattica a distanza guarda il tema è tenere un contatto una relazione questa circolare che è stata tanto criticata lo dice in molti passaggi in maniera chiara tenere un gancio qualcosa che poi questo può tradursi in un'attività poi uno può farla più bella meno bella la scheda non la scheda questo è un altro tema che ci vorrebbe un altro webinar in un'attività che tiene agganciato il bimbo all'idea all'idea di scuola che gli dà una routine no che gli dà un ritmo un ritmo di vita ma stiamo facendo scuola è ovvio che non è la classe ma che vai cioè è chiaro è banale addirittura qualche mio insegnante faccio un esempio mi ha detto però a me parlo di elementari no fare un webinar scusami un meet con tutti e venti sì la prima volta è carino ci salutiamo baci baci che sorriso come stai ha un senso perché c'è il livello affettivo dice però mi ha detto ma potrei farlo anche un quarto d'ora però a quattro alla volta ma certo cioè qual è il compito della scuola come istituzione fornire gli strumenti per poterlo fare io oggi per esempio ho mandato due pc a delle famiglie uno delle elementari uno delle medie che non avevano lo strumento per una delle due famiglie ha la connessione dal vicino di casa che saputa la storia gli ha aperto il suo internet il suo wireless quindi ragazzi c'è un mondo che si sta muovendo per tenerci insieme è logico che non è non c'è la prossemica dicevo prima l'ho detto pure io non c'è il rapporto diretto eccetera come anche logico noi dobbiamo fare test interattivi online o fare vedere le slide più belle del mondo eccetera dobbiamo provare a fare una didattica di vicinanza io userei questo slogan che ho letto da qualche parte che mi piace molto cioè a tenerli più possibile vicino poi è ovvio che anche il tema la valutazione che è il tema di oggi è molto legato a quello che facciamo però per me su un bimbo piccolo se già il bimbo ha conservato una curiosità un interesse nel mio diario di bordo lo segno è buona lì insomma qui proprio sulle classi qui ci vorrebbe una valutazione più ampia una riflessione più ampia sulla valutazione proprio nelle classi più piccoli è veramente difficile in genere dare una valutazione in genere quindi figurarsi in una situazione di questo se mi dicono una soluzione diversa per tenere insieme le comunità se il dire non utilizzo la didattica a distanza che per me come ho già spiegato prima è anche mandare delle buste via posta no? che diventa un modo non deve essere digitale per forza può anche essere analogica io ho una storia quindi non posso smentire però però se non ci arrivo così se il ragazzino non ha il cellulare una cosa che ho detto più volte in più in più contesti la prima cosa che faccio l'anno prossimo all'iscrizione in mezzo alle 200 carte GDPR carte d'identità autorizzazioni autorizzazioni sanitarie bla 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 un bel modulo in cui mi si dichiara volontariamente se la famiglia ha un pc se ha una connessione perché la cosa che stiamo scoprendo è che in Italia tutti sono connessi ma solo tramite il cellulare quindi questo non è io esagero naturalmente perché i dati però è questo cioè anche perché se riflettiamo anche le pubblicità che abbiamo visto in questi anni si è puntato molto sui giga piuttosto che sulle connettività casalinghe no? io ce l'ho per esempio internet a casa ma secondo me ormai poca gente è rimasta ad avere anche la linea telefonica internet a casa eccetera eccetera quindi questi sondaggi non vanno serve per Netflix o uno non ci pensa e infatti però allora qualcuno quando io ho detto e quindi qualcuno mi deve spiegare cos'altro facciamo io credo che il cuore di insegnante non lascia lo studente ho fatto pure rima però è quello che sto leggendo in questi giorni nei social anche insegnanti più recalcitranti verso le tecnologie bene o male hanno questo sentono questa esigenza e poi vabbè per non dire io qui alle spalle ho il presidente o le due bandiere insomma qui dobbiamo tenere in piedi il diritto all'istruzione poi è anche vero che dal 1940 al 1945 le scuole non è che sono state così frequentate perché c'era una guerra e comunque la miglior gioventù italiana è uscita da quegli anni là e quindi non dimentichiamo di questi questi passaggi cerchiamo di fare il meglio ecco è chiaro è ovvio che i bimbi piccoli la maestra e la maestra e il maestro è logico è logico per tutti però qualcosa bisogna fare grazie mille direi che con questa risposta hai risposto anche alle altre domande più o meno che ti volevo fare tra l'altro mi segnala un preveggente esatto sì perché sei stato molto articolato quindi ti ringrazierei se ci sono domande un pochino più specifiche di carattere meno generale magari te le giro e rispondiamo in privato se mi dai questa disponibilità va bene grazie ancora io ricordo a tutti che il webinar che adesso si sta concludendo vi arriverà anche in formato registrato diciamo con slide allegate tra circa 24 ore insomma parte tra circa 24 ore quindi ci può mettere anche qualcosa in più stesso discorso vale per gli attestati se avete bisogno di qualsiasi cosa vi segnalo anche le pagine ovviamente dedicate alla didattica a distanza ancora una volta sul sito campus store e sul blog innovation for education oltre che alla pagina facebook dedicata all'argomento che davvero sta diventando una bellissima agora virtuale in cui ci troviamo in tanti e ci confrontiamo e mettiamo a disposizione diverse idee che è scuola e didattica a distanza che vi consiglio insomma massimati social vi ringrazio ancora a tutti soprattutto per la partecipazione e vi auguro un'ottima settimana ciao a tutti grazie ciao 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 ciao